Per caso vive nella giungla? No. È veloce, è vero? No. Per caso vive nelle grandi pianure d'Africa? No. Ehi! Che sta succedendo? Fermi ragazze. Fabi sta attento, è là fuori. Jerry! Risalga subito in macchina! Rimanga sulla vestita! Avanti! Andiamo via da qui. Jerry! Jerry, che succede? È una cosa mondiale. C'è chi se la cava meglio di noi. Non lo sappiamo. Ho paura! Come sappiamo che arrivano? Arrivano. Pronta? Via, su, via! Andiamo, andiamo! Andiamo! Ci deve aiutare. Mi chiede di lasciare la mia famiglia. Nessuno la obbliga. Ma non finga di non essere adatto a questo compito. Amore! Di alle bambine che sto tornando. Sebbi! Amore! Sabiate solo, che sto tornando. Grazie per la visione!